amici e amiche benvenuti in questo nuovo video è un vlog raga un vlog guardate l'ora lo sto registrando proprio ora e ve lo carico subito adesso doveva uscire un altro un altro video molto bello raga anche questo qui dove io rispondo a delle domande sui videogiochi e non è andata chissà che quel video però ve lo voglio caricare lo stesso raga perché è divertentissimo allora raga perché carico questo video perché come infatti questo video qui non so nemmeno se lo lascio o se lo lascio o domani lo cancellerò comunque il fatto è questo raga perché vedo molte persone che c'è andando in youtube analyzing vedo che la media dei video non dovrei nemmeno dirlo però raga io sono una persona trasparente limpida dico sempre le cose come stanno intanto l'orologio guardate come sta vedo molte persone raga che magari scrivono like e poi non so se hanno visto effettivamente il video adesso ci può stare perché anche io se vado di fretta scrivo like passa da me ci può stare però raga non deve essere una cosa tipo come abitudine nel senso non deve essere una cosa che scrivono like passate perché tanto sanno che manco il like mettono oppure non cliccano e vabbè quindi raga fino ad un certo punto ok però andando in youtube analyzing vedendo il video vedo che la media di un minuto io siccome ci lavoro sopra ore su video di 10 minuti ci lavoro ore chi edita a livello professionale lo sa quindi io non è che edito meno di uno che c'ha un milione di iscritti io non è che edito male rispetto a un favij anzi quello c'è tutti i partnership tutto il tempo che vuole e quant'altro io raga nel mio già molto però se faccio un'ora e mezza di di editing per una stima totale del video di un minuto raga ecco io mi faccio questa domanda e dico come mai ecco questa è una cosa che voglio chiedere a voi e se magari a youtube che si è pagato se perché ci può stare raga che si baga però se si si baga soltanto a me sembrano un po strano ecco e poi raga nei commenti chi guarda il video effettivamente mi raccomando di non scrivere ma tu lo sai che io li ho sempre guardati perché raga chi vede i video per intero lo so chi è quindi non vi preoccupate ma anche chi non guarda il video non sto dicendo che il video deve essere visto per forza anche se il contenuto non gli piace assolutamente raga perché anche io se vado in un canale dove c'è uno che fa una cosa che non mi piace ovvio raga io il video gli posso mettere like ecco come supporto e tutto ma non sempre sempre come abitudine perché dopo capisco che tu non sei interessato al mio canale ma sei interessato più al like passa da me queste cose qui quindi raga detto questo come infatti sto video durerà anche poco perché non mi sta non mi va di parlarne ore 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 come infatti raga vedete l'orario io adesso lo faccio e lo carico così non so raga se durerà in circa 5 minuti ma era soltanto un annuncio così per dirvi mi raccomando siate attivi e soprattutto condividete sempre il video iscrivetevi al canale lasciate un bel pollicione all'insù raga io non so se questo video lo lascerò così come nel senso oppure ad editarlo no raga perché non mi va di editare anche questo video sinceramente proprio per forza di cose perché voglio chiarire questo piccolissimo passaggio con voi per quanto riguarda le visual perché io ripeto se su un'ora e mezza circa di editing compreso fra tipo che ne so su un video di di mezz'ora io devo editarlo per un'ora e poi un'altra mezz'ora per convertirlo poi vedo effettivamente che nell'analysing di youtube vedo che il video è stato visto all'incirca come come video stimato un minuto raga questo non non mi va perché io so chi lo guarda effettivamente come ho detto so chi lo guarda effettivamente quindi nei commenti tranquilli e tranquilli che so chi lo vede però raga mi piacerebbe anche capire effettivamente cosa volete vedere il mio canale come infatti per questo sto facendo più esperimenti più nel senso vi faccio vedere più format proprio per capire le vostre preferenze quindi raga io detto questo il video penso che adesso stiamo a quattro minuti e qualcosa circa detto questo raga io il video ve lo lascio così corto com'è ve lo carico già da adesso fra domani dopo domani verso martedì già posso caricare lascio sfogare questo video nel senso lascio che lo possono guardare un po' tutti anche perché dura poco quindi magari lo possono vedere con più voglia e lascio questo video così com'è raga e verso martedì caricherò il video che ho fatto del quiz non mi ricordo se l'ho detto anche all'inizio di questo video vi lascio vi lascio già immaginare che faccia sto quiz rispondo alle domande è di nuovo un nuovo format proprio per vedere le vostre preferenze per certo raga sto facendo tanti esperimenti su questi format perché perché voglio capire effettivamente voi che cosa volete vedere se volete vedere non so più format per quanto riguarda un guardate raga che figo coi quadri se volete vedere magari un format diverso dal solito se volete vedere magari più gameplay più più vlog cioè raga fatemelo sapere sotto nei commenti io vi auguro una buona serata perché adesso è sera sono le sette e mezza vi auguro una buona serata un buon inizio settimana perché penso che fra un paio d'ore che caricherò sto video comunque non so chi lo guarda magari chi lo guarda gel lunedì quindi buon inizio settimana vi iscrivetevi al canale lasciate un bel pollicione all'insù attivate la campanella per non perdere nessun altro video condividete il video sui vostri social seguitemi su instagram vi lascio i link in descrizione un bacione a modo mio vi voglio bene mi raccomando e mentre ci vediamo alla prossima ciao ten sette to games ea martedì con il quiz quanto quanto ne so sui videogiochi ciao